Ciao, sono Ago Perrone, direttore di mixologia alla Conno Bar in Londra. Questo è Black Lorbe, una combinazione di ingredienti che evolvono insieme per aiutare un'esperienza di aromatica. Grazie e fresca, come Lorbe Caviar Vodka. Intensi e frutti, come Calvados. Velve e frutti, come un aperitivo infusato con il cocco. Il tuo occhio è come una paletta di sapore, colorato con un'armonia per ottenere il balance perfetto. Stratto con il stile e non dimenticare il tuo sorriso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.